La chiamavano i greci Nautilia, viaggio, e Gilgamesh è la storia di un viaggio, un viaggio verso il mistero della vita e verso l'oscuro mistero della morte, un viaggio che tenta di rivelare attraverso la potenza della parola la fragilità della nostra esistenza e il senso ultimo del nostro vivere che fragilmente e lentamente si avvicina al suo compimento. La storia di Gilgamesh ha un destino particolare. Vorrei cominciare questa riflessione ricordando quello che Giovanni Pettinato, l'autore della più importante edizione del Gilgamesh, mi raccontò un giorno di autunno del 2000, quando insieme a Mario Luzzi e a Sergio Givone presentò alle Giubbe Rosse di Firenze il primo volume dedicato alla Mesopotamia della mia storia della poesia. disse quella sera, mi trovavo nel deserto, c'era in corso una campagna di scavi, all'improvviso un buco dalla terra. Entrammo la biblioteca di una città mi apparve con gli schedari e le tavolette cuneiformi, una accanto all'altra, come fossero libri di una nostra normale, moderna biblioteca. Come non cominciare, parlando anche di Gilgamesh, con la storia di un ladro e di un genio. il ladro si chiamava Ormuz Rassam, il genio George Smith. Una sera del 1852, vicino a Ninive, dove era stato scoperto il palazzo di Assurbanipal, le missioni archeologiche francesi e inglesi si combattevano per comprendere e capire la qualità e la quantità della scoperta che era stata fatta. Ma Ormuz Rassam, che era l'emissario del British Museum, ebbe una soffiata. i francesi avevano scoperto la biblioteca di Ninive da lì a qualche ora. Avrebbero portato via tutta l'intera collezione di tavolette. Rassam non perse tempo. Organizzò una squadra di cinquanta operai. si era di giovedì. Gli scavi riprendevano sabato mattina. Nella notte tra giovedì e venerdì, e una parte della notte del sabato, Rassam trafugò l'intera biblioteca di Ninive, nel palazzo di Assurbanipal. Poche settimane dopo, le tavolette erano già nei depositi del British Museum. il British aveva un genio che si chiamava George Smith. Sin da piccolo aveva imparato l'assiro babilonese e la significazione di ogni singola scrittura cuneiforme. Fu affidato a lui il compito di di produrre qualcosa di nuovo dalla grande confusione di tavolette, migliaia, che erano state portate nel deposito. furono queste tavolette divise secondo un ordine preciso. Alcune parlavano di economia, altri parlavano di geografia, altre di miti, di storie, e su queste si soffermò l'attenzione di George Smith. Comprese che in quella enorme quantità di tavole cuneiformi era possibile scoprire una nuova dimensione della letteratura. Il lavoro di George Smith durò 20 anni, una sera di 150 anni fa, il 3 dicembre del 1872. George Smith parlò per la prima volta del diluvio universale. La conferenza fu fatta nella Società di archeologia biblica e per la prima volta una scoperta archeologica aveva confermato la veridicità del discorso biblico del diluvio. Secondo le parole stesse di Smith cominciò a comprendere con un lavoro minuzioso che ogni narrazione autentica era composta da elementi vari, normalmente sei elementi, all'interno di una tavoletta. e la fortuna volle che una di queste tavolette quasi integra contenesse l'immagine della colomba che non ritorna perché ritorna invece un corvo a raccontare al nuovo Noè la fine del diluvio universale. Passarono tanti anni, ma poco a poco, George Smith in dieci tavolette seppe ricostruire tutta la saga di Gilgamesh. Fino al 1872 Gilgamesh non apparteneva alla cultura occidentale e il più antico dei miti, la prima epopea della storia dell'umanità. Per caso vide la luce, oserei dire, è una delle più alte forme di composizione della storia della poiesis. Giovanni Pettinato è scomparso di recente ma a lui si deve e alla sua grandezza la riscoperta di una letteratura che annovera tra i più grandi capolavori della poesia. L'Enuma Elis e il mito di Adapa, che anticipa il mito di Adamo del Genesi, sono un esempio lampante della grandezza di quell'opera poetica che appare nella terra tra i due fiumi, i fiumi delle origini, il Tigri e l'Eufrate. Ma andiamo allora a scoprire tavoletta per tavoletta la storia di Gilgamesh. Di Gilgamesh che vide ogni cosa io voglio cantare, di colui che ogni cosa conobbe e di tutto fu esperto. L'intero universo percorse perfetta la sua saggezza. Egli vide cose segrete, scoprì cose nascoste ai viventi, costruttore delle mura di Uruk, di luoghi splendenti. Fu ogni re superiore, fu soli da rete ai sudditi, presto aiuto ai fratelli, protesse i suoi uomini. Egli fu Gilgamesh dalla forza possente, colui che percorse l'oceano, fin dove nasce il sole, colui che ogni dolore conobbe e che giunse ai confini del mondo alla ricerca disperata della vita eterna. L'interrogante, il primo odisseo, il primo eroe che va in cerca dell'impossibile, il primo eroe che vuole sapere che cosa c'è oltre, che cosa riserva la vita, che cosa è la morte, che cosa produce il viaggio verso l'ignoto. Gilgamesh colui che per primo scende nel regno dei morti a interrogare il senso ultimo della vita. Ma come ogni illuminato sovrano, poco a poco diventa un tiranno, il suo io smisurato, la sua voglia di conoscere tutto, lo rende indifferente, crea nuove leggi contro l'universo morale del tempo, imprime per la prima volta nelle anime l'idea dello ius prime noctis, confonde i suoi sudditi, comincia ad essere odiato. E gli dèi lo vedono e pensano, Gilgamesh, cosa sei diventato, un crudele tiranno. Ora, odea, madre, crea qualcuno che a lui si opponga, crea il suo opposto che possa limitare, contenere la sua crudeltà, uno specchio. L'idea di qualcuno che sia lo specchio di quello che noi non siamo, perché nel momento nel quale la dea decide di creare il suo opposto, cioè Enchidu, è chiaro e visibile che Enchidu e Gilgamesh siamo noi, dentro noi stessi, nel nostro specchio dell'anima. Noi siamo ciò che non siamo, noi siamo l'opposto di quello che siamo. E allora gli dèi creano Enchidu, un uomo primordiale, quello che è chiamato seme del silenzio, un guerriero dalla potenza divina creato da un grumo di terra, tutto coperto di peli, pastore selvaggio. Enchidu comincia a brucare l'erba per terra, si sazia nelle fosse insieme alle bestie. Egli stesso una bestia, non c'è nessuno che possa vincerlo. È davvero quello che il testo chiama un dio inferocito. E allora Gilgamesh, informato da un cacciatore, manda a lui la sapiente Shabkat, una dea che assomiglia a Istar, una Ierodula celeste, perché possa, con le sue grazie di donna, cambiare per sempre quella natura selvaggia. Questa pagina, questo momento è davvero sorprendente. Il sesso, in questa pagina che risale al 2000 avanti Cristo, è strumento di purificazione e di nuova essenza interiore. Il sesso visto e sentito e detto come un atto che conduce l'uomo a una dimensione umana e civilizzata. Al principio della poesia, la realtà di una dimensione così potente assume il senso davvero del sacro. Con chiarezza impertinente e profonda è raccontato il viaggio di Enkidu verso se stesso. Shabkat lo vide l'uomo primordiale, il giovane la cui selvaggia virilità viene dal profondo della steppa. E il cacciatore disse, guarda Shabkat, è lui, denuda il tuo seno, non lo respingere, abbraccialo forte, egli ti vedrà e si avvicinerà a te. Sciogli le tue vesti affinché possa giacere sopra di te. Dona a lui l'uomo primordiale, l'arte della donna. Allora, cresciuto lui nella steppa, tutto ciò che selvaggio gli diventerà ostile mentre egli sazierà con te le sue brame amorose. Enkidu giacque con Shabkat e la possedette e dopo essersi saziato del suo fascino volse lo sguardo al suo bestiame. Le cazzelle guardano ora Enkidu e fuggono, gli animali della steppa si allontanano da lui e Enkidu infatti è diverso ormai. Il suo corpo è stato purificato. Le sue gambe, che prima tenevano il passo delle bestie, sono diventate rigide. Enkidu non ha più forze e non cammina più come prima. Egli, grazie a lei, ha ottenuto l'intelligenza. Il suo sapere è diventato vasto. Una pagina rarissima. Dove l'idea di un'arte della donna che toglie all'uomo le forze della oscurità e della violenza primitiva fa restare davvero incantati. Enkidu ha perso tutto in fondo. Si è avvicinato all'amico. Ora è come lui. E mentre tutto procede, ecco, Gilgamesh sente in un sogno che sta accadendo qualcosa. Madre mia, dice, io ho sognato Enkidu e lo amai come una moglie. Lo abbracciai forte, lo portai a te e lo feci inginocchiare di fronte a te. E tu lo trattasti come fosse tuo figlio. E la madre sapiente gli dice, un compagno forte tu riceverai. Lui può salvare la vita di un amico. La prima tavoletta si chiude così. La seconda tavoletta vede Shabkat che veste Enkidu, veste Enkidu il selvaggio e gli fa mangiare il pane, segno non soltanto di civilizzazione dell'uomo ma anche di divinità. E il bere, un liquore che è segno di regalità. Shabkat accompagna Enkidu a Uruk in città. C'è una ribellione sottile. Sta pretendendo Gilgamesh da una giovane sposa, loius primen octis. Nel momento nel quale comprende quel che sta accadendo. Enkidu non può accettare tutto questo. Considera sacra e inviolabile l'intimità sessuale. E quindi affronta Gilgamesh e gli impedisce di entrare nella casa della sposa di turno. Si affrontano, vince Enkidu. Enkidu che riconosce la superiorità di Gilgamesh, i due si innamorano, Gilgamesh chiede alla madre di adottarlo. Ecco il momento più alto, l'amicizia. Tutto in quest'opera, tutto in questa saga parla di amicizia. Di quel sentimento assoluto che lega due anime affini, che produce quell'alleanza di vita, una sorta di amore superiore, senza scopo e senza finalità. Ora Enkidu e Gilgamesh sono la stessa persona, sono la stessa anima e procederanno insieme nella vita, perché una forma più alta d'amore hanno conquistato. Grazie a Shamkat e grazie a una dimensione di vita che sconosce la vergogna della nudità e del sesso. Però in Enkidu nasce uno strano tempo, il tempo della malinconia. Sa di non essere più se stesso. Dopo avere conosciuto l'amore, in fondo qualcosa in lui è morto. Si è persa quella identificazione alla natura che raramente si coniuga con la immediata civilizzazione. E allora decidono insieme di fare quello che gli eroi di ogni mito fanno, un viaggio per uccidere un mostro. E decidono così di andare nella foresta dei Cedri per uccidere il mostro Kubaba. Nella terza tavoletta è raccontato questo viaggio, un viaggio che comunque Enkidu teme, ha paura di quello che può accadere. Prega l'amico di ritornare sulla sua decisione perché sente e dice che questo viaggio non deve essere fatto. E gli anziani dicono di sì, condizione che Enkidu protegga il re. La quarta tavoletta breve racconta dei timori di Enkidu, del senso di angoscia che Enkidu sente. Enkidu è il primo tra tutti gli eroi che vive uno stato di profonda ansia, uno stato di timore impotente, uno stato di interiorità collassata dal nulla, che in lui si fa sempre più spazio. Ha perduto la forza del tempo, non è preparato al nuovo che in lui è nato. E allora sogna di essere schiacciato da una montagna, sogna della morte che cade dal cielo, sente oscuri presaggi. Si perde nella sua malinconia. La quinta tavoletta vede, come al solito, l'uccisione di Kubaba. Ma come accade in ogni mito. Un mostro, un esempio e una immagine della primordiale oscurità, produce sempre una maledizione. E Kubaba, mostro oscuro, maledice i due assassini. Uno di voi due morirà. Non raggiungerete mai insieme la vecchiaia. E non abbia più Enkidu amici dopo Gilgamesh. E non abbia più Gilgamesh amici dopo Enkidu. Kubaba indica ed evoca la morte. Non sa se la morte coglierà Enkidu. Non sa se la morte coglierà Gilgamesh. Ma nel gioco di questa avventura il ritorno è che la morte si fa presente e diventerà la protagonista dell'opera. Ma è nella sesta tavoletta che accade l'impensabile. Ritornando dalla spedizione contro Kubaba, Enkidu e Gilgamesh incontrano la dea Ishtar. La dea, prima e ultima del pantheon assiro-babilonese. Colei che anticipa Iside. Colei che anticipa tutte le dee della mitologia greca e romana. La dea che osa scendere agli inferi. Dalla discesa di Ishtar agli inferi noi abbiamo la prima immagine dell'aldilà. Nella terra senza ritorno, nel suolo di Erexigal, Ishtar volle andare. Vuole andare nella casa delle tenebre, nella casa dalla quale non esce colui che vi entra, per la strada dalla quale non c'è ritorno, nella casa dove tutto è privo di luce, laddove polvere è il nutrimento e il cibo è fango e nessuno li vede e tutti siedono nell'oscurità e sono vestiti come gli uccelli e sopra i battenti e sul chiavistello è distesa la polvere. Il luogo da cui nessuno ritorna dira Shakespeare. Il luogo ignoto di cui nulla sappiamo perché nessuno è mai venuto a raccontarci che cosa c'è dopo la morte. E diventa questo il tema fondamentale della saga di Gilgamesh. La dea Ishtar si ferma al centro della via. Apertamente chiede a Gilgamesh di fare l'amore. Vuole possederlo. Vuole diventare. Dea ancora una volta attraverso di lui. Gilgamesh si rifiuta. Enkidu la offende. E Ishtar dice la maledizione finale. Quel toro celeste che ogni cosa distrugge manderò fra di voi e che la morte sia il prezzo che dovete pagare a questo rifiuto. Il toro celeste improvviso viene potente e furioso. Ma Enkidu seppure nella malinconia seppure privato dall'amore della ferocia rimane sempre il più forte. E il toro celeste è ucciso. e il giorno dopo il divino Enkidu disse a Gilgamesh fratello mio oggi ho sognato che gli dèi si riunivano e Anu il sommo diceva hanno ucciso costoro il toro celeste il divino Enkidu muoia resti in vita il divino Gilgamesh Gilgamesh Enkidu allora maledice la prostituta Sharath preso da un impeto di violenza nuova distrugge la porta di Uruk rimpiange la sua antica natura il suo cuore vibra e si contorge a contatto con la morte poi si rassegna i due amici intimissimi i bretalimè sono chiamati nel testo perfetta immagine dell'amicizia senza differenza che si preparano alla separazione ultima all'addio non dimenticare tutto ciò che ho patito dice Enkidu e poco a poco si avvia verso la morte e nella tavoletta ottava morto Enkidu si leva alto il pianto di Gilgamesh piangerò per Enkidu l'amico mio e metterò amari lamenti come una lamentatrice l'ascia del mio fianco l'arma del mio braccio alla spada della mia guaina lo scudo del mio petto i miei vestiti festivi la mia cintura regale uno spirito cattivo è venuto e me li ha portati via amico muro imbizzarrito asino selvatico delle montagne leopardo della steppa Enkidu amico mio dopo esserci incontrati abbiamo scalato insieme la montagna abbiamo catturato il toro celeste e lo abbiamo ucciso abbattuto Kubaba lo abbiamo vinto ed ora qual è il sonno che si è impadronito di te tu sei diventato rigido e non mi ascolti e Kilgamesh accosta la mano al cuore ma questo non batte più allora ricopre la faccia del suo amico come quello di una sposa come un'aquila comincia a volteggiare intorno a lui come una leonessa i cui cuccioli sono stati presi in trappola va avanti e va indietro questa è la morte un chiudere gli occhi un ritornare un nulla di cui nulla sappiamo ma perché non sapere e allora dalla tavoletta nona costruita e composta da George Smith sappiamo del suo viaggio agli inferi che il Gamesh è il primo a scendere nel regno dei morti è il primo ad affrontare la sua catabasi è il primo a raccontare il senso di una esistenza che dalla sua fine deve ritrovare il principio il viaggio le fermate le soste e un progressivo avvicinarsi al mistero quello che tocca Gilgamesh incontra per primo l'uomo scorpione una sorta di guardiano della terra del nulla vede il suo aspetto selvaggio è diventato come Enchidu nel suo viaggio coperto di pelli i capelli scompigliati il corpo consunto chi sei tu domanda l'uomo scorpione che hai percorso vie lontane che hai errato finché non sei giunto a noi attraversando con affanno queste acque tenebrose e violente vorremmo conoscere il perché del tuo viaggio verso chi vai dove vai e all'uomo scorpione Gilgamesh risponde già stanco voglio recarmi da utanapishtim mio antenato colui che entrò nella schiera degli dèi che mutò la sua vita voglio interrogarlo su che cosa è la morte voglio interrogarlo su che cosa è la vita e l'uomo scorpione gli dice o Gilgamesh mai nessun uomo è riuscito a attraversare le viscere di questa montagna il cui cuore è buio per dodici ore doppie e c'è un'eterna notte di tenebra e Gilgamesh dice aiutami tu i miei muscoli sono rigidi livido il volo per il caldo ed il freddo per l'immane fatica io ho perso ogni forza e l'uomo scorpione a lui vai Gilgamesh non temere queste montagne per te io apro la notte oscura questa notte che Gilgamesh traversa e che forse la prima notte mistica della storia della poesia occidentale questo viaggio nel nulla nell'oscurità di un mondo che la stessa anima che ignora il mistero e codà a tutta l'opera alla stessa saga un carattere mistico e rivelativo e dopo aver traversato la notte giunge Gilgamesh nel giardino del sole si meraviglia nel vedere alberi che producono pietre preziose una vite appesa con pietre bianche su arbusti e cespugli fiorisce la corniola e mentre meravigliato Gilgamesh guarda questo boschetto vede la taverniera Siduri che vive lontano sulla riva del mare si avvicina a lei Siduri a paura del selvaggio Gilgamesh lo prende per un assassino sbarra la porta appone il chiavistello e allora l'eroe si rivela Siduri sa chi è Gilgamesh ma si meraviglia gli dice se tu sei Gilgamesh l'eroe il costruttore di Uruk perché sei così pallido e così stanco nel volto perché il tuo cuore è assente e il tuo sguardo è confuso perché regna un'angoscia così grande nel profondo del tuo cuore e a Siduri Gilgamesh risponde non dovrebbero le mie guance essere così emaciate e la mia faccia stanca non dovrebbe il mio cuore essere così confuso e il mio sguardo assente non dovrebbe regnare angoscia nel profondo del mio essere non dovrebbe la mia faccia essere simile a quella di uno che ha viaggiato per lunghe distanze non dovrebbe la mia faccia portare i segni del caldo e del freddo e indossando soltanto una pelle di leone non dovrei io vagare nella steppa Enchidu che io amavo e amo sopra ogni cosa chi ha condiviso con me ogni sorta di avventure ha seguito il destino dell'umanità per sei giorni e sette notti io pianto su di lui fino a che un verme non è uscito fuori dalle sue narici ho avuto paura della morte ho cominciato a tremare e ho vagato nella steppa la sorte del mio amico pesa su di me per sentieri lontani ho vagato come posso io essere tranquillo come posso io essere calmo l'amico mio che amo è diventato argilla ed io non sono come lui non dovrò giacere pure io e non alzarmi mai più per sempre a colui che è dato sapere tutto a Gilgamesh il corpo pallido dell'amico è freddo incute paura semina dolore alimenta tristezza pone il dubbio impone la ricerca di una illusione la meta del viaggio è la verità e la verità è credere capire che cosa significa quel null che tutti ci attende perché insostenibile è il peso del destino la certezza del non essere la consistenza del null dinanzi alla pienezza della vita difficile il viaggio dice la dea piena di insidie la via e nel mezzo vi sono le acque mortali che impediscono la navigazione una volta raggiunte le acque mortali che fare si duri lascia che Gilgamesh attraversi la sua porta gli indica da lontano Urshanabi il traghettatore chiede a lui Gilgamesh di traversare il mare della morte e presto sarai portato alla presenza di Utanabishtim chi è Utanabishtim è un eroe come lui è il Noè Mesopotamico è colui che ha salvato l'umanità dal diluvio colui che ha costruito l'arca ma appena lo vede Utanabishtim a pietà di Gilgamesh perché vuoi prolungare il tuo dolore perché ti sei agitato tanto che cosa hai ottenuto hai soltanto riempito di angoscia il tuo cuore hai soltanto avvicinato il giorno lontano della verità questo dice Utanabishtim a Gilgamesh e insieme a questo rivela la verità della vita l'essenza della nostra esistenza fondata sulla fragilità sulla leggerezza e l'inconsistenza sull'impermanenza sul nulla del tempo sul nostro essere destinati al nulla sin dal principio e nelle parole del Dio si rivela il canto oscuro del cuore mesopotamico l'umanità è recisa come canne in un canneto sia il giovane nobile come la giovane nobile sono preda della morte eppure nessuno vede la morte nessuno vede la paccia della morte nessuno sente la voce della morte la morte malefica recide l'umanità noi possiamo costruire una casa possiamo costruire un nido i fratelli possono dividersi l'eredità vi può essere guerra nel paese possono i fiumi ingrossarsi e portare inondazione ma la nostra vita è somigliante alle libellule che sorvolano il fiume il loro sguardo si rivolge al sole e subito non c'è più nulla come si assomigliano l'un l'altro il prigioniero è il morto nessuno può disegnare la sagoma della morte l'uomo primordiale è un uomo prigioniero quanto quanto resta di noi la vita la sua fragilità è somigliante a una libellula che si posa sulle fragili onde di un fiume quel poco di luce che traspare dalle sue ali questo è il riflesso della vita una metafora di una bellezza inaudita di una intensità simbolica unica chi potrà mai pensare la fragilità con lo stesso senso poetico di questa verità del saggio Uttanapishtim in questo momento sembra chiudersi il viaggio di Gilgamesh Gilgamesh in silenzio guarda l'uomo che è diventato Dio gli chiede le tue fattezze non sono diverse dalle mie noi siamo uguali ma tu dimmi come sei entrato nella schiera degli dei ottenendo la vita eterna Uttanapishtim parla del diluvio parla di come gli dei stanchi dei deliri umani ordinarono che le acque coprissero l'universo parla della costruzione dell'arc parla della tempesta infinita che seguì la sua costruzione con parole assai semiglianti al testo biblico e dice rivelando alla fine quell'immagine che ancora oggi definisce il diluvio universale quando giunse il settimo giorno feci uscire una colomba la liberai la colomba andò e ritornò ma non vide alcuna terra visibile allora feci uscire una rondine la liberai la rondine andò e ritornò e non vide alcuna terra visibile feci uscire allora un corvo e lo liberai andò il corvo e quando vide che l'acqua ormai defluiva e gli mangiò starnazzò sollevò la coda e non tornò più e quando il diluvio finito il dio supremo si rivolge a utanapishtim dicendogli prima ero un uomo ora tu e tua moglie siete simili a noi dei risieda utanapishtim lontano alla foce dei fiumi questa è la storia del diluvio la storia che anticipa come accade sempre nella letteratura mesopotamica eventi e storie bibliche ma la storia di Gilgamesh non è ancora finita perché ancora ci illudiamo che sia possibile un'altra dimensione utanapishtim utanapishtim dona Gilgamesh la possibilità di due illusioni che è la più feroce delle decisioni perché crea una sorta di colpa in colui che le vive e le sente non dormire per sette giorni gli dice utanapishtim se riuscirai in questa impresa avrai la vita eterna utanapishtim ordina che siano posti i pani alla fine di ogni giornata accanto a Gilgamesh al suo risveglio il primo pane del primo giorno è già duro e il pane dell'ultima notte è ancora morbido Gilgamesh non è riuscito a superare la prova del son disumana questa illusione ma ancora altra illusione lo attende è donata a lui la pianta della irrequietezza la pianta dell'eterna giovinezza quando il suo viaggio è alla fine e utanapishtim da lontano vede l'eroe andar via GILGAMESH poggia per un istante questa pianta che dà la vita eterna la pianta è mangiata da un serpente la terza illusione utanapishtim dona a GILGAMESH gli strumenti divini il meccu e il puccu i due strumenti avrebbero reso eterno il lavoro di GILGAMESH ma questi strumenti ormai sono in fondo al fiume della morte sono caduti sono andati persi e nella dodicesima tavoletta GILGAMESH dispera per la perdita di tutto per la perdita degli strumenti divini per la perdita della pianta della irrequietezza per la perdita del suo sogno di conoscenza e improvviso dagli inferi con una sorta di improvvida e imprevista mutazione poetica nell'ultima tavoletta riappare Enchito egli tenterà di ritornare negli inferi per pregare gli dei a che possa egli riportare questi strumenti al suo amico ma Enchito non segue i consigli di GILGAMESH ha saputo che non può andare così vestito di luce candido profumato nel regno dei morti perché lo riconoscerebbero subito si accorgono gli dei degli inferi che Enchito sta tentando una strada impossibile e allora egli ritorna senza essere riuscito nell'impresa e tenta di abbracciare GILGAMESH ma GILGAMESH non sente il suo abbraccio e in lontananza vede Enchito che si dissolve come ombra per sempre perché in quella terra da cui non c'è ritorno egli ormai ha perduto qualsiasi idea di nuova vita e tutte le sue speranze tutto allora sembra perdersi nel nullo e mentre si dissolve l'immagine dell'amico GILGAMESH gli grida dimmi amico mio dimmi amico mio dimmi gli ordinamenti degli inferi che tu hai visto e da lontano come ultima voce Enchito GILGAMESH gli grida io non te li posso dire amico mio non te li posso dire se io ti dicessi gli ordinamenti degli inferi che ho visto allora tu ti butteresti giù e piangeresti io voglio buttare giù e piangere il mio corpo che tu potevi toccare e del quale il tuo cuore gioiva il mio corpo è mangiato dai vermi come un vecchio vestito il mio corpo che tu potevi toccare e del quale il tuo corpo gioiva e come una crepa del terreno piena di polvere ahimè ahimè io non sono altro che polvere e Gilgamesh seguendo il grido di Enchidu si buttò nella polvere e gridò ahimè ahimè se questi sono i decreti degli inferi che senso ha vivere che cosa è la vita eterna quale illusione mi muove Gilgamesh ritorna e sarà un grande re ma che cos'è la vita eterna esiste una vita eterna e per l'uomo così fragile è nato per una luce breve destinato alla morte che cosa garantisce l'eternità ed è qui che si apre uno spiraglio di struggente bellezza una intuizione che rende l'ultima pagina della saga di Gilgamesh suprema e assoluta perché nell'ultima tavoletta si rivela cos'è che a noi può darci la vita la vita eterna ed è la generazione sono i figli che abbiamo in vita generato soltanto soltanto quello che Mozart nel flauto magico chiamerà la kinder height ci salva soltanto la procreazione a noi dona un posto eterno in un regno che soltanto il nostro essere felice e fertile può costruire e con questo inno sublime si chiude la storia di Gilgamesh hai visto colui che ebbe un solo figlio l'hai visto sì l'ho visto egli piange amaramente vicino al chiodo piantato nel muro hai visto colui che ebbe due figli l'hai visto sì l'ho visto egli siede su due mattoni e mangia pane hai visto colui che ha generato tre figli l'hai visto sì l'ho visto egli beve acqua da un'otre hai visto colui che ha generato quattro figli l'hai visto sì l'ho visto il suo cuore gioisce come quello che ha giocato quattro asini hai visto colui che ha generato cinque figli l'hai visto sì l'ho visto come un buono scriba egli è servizievole eretto ed entra facilmente nel palazzo hai visto colui che ha generato sei figli l'hai visto sì l'ho visto il suo cuore gioisce come quello di un fattore hai visto colui che ha generato sette figli l'hai visto sì l'ho visto egli è un compagno degli dèi egli siede su un trono e ascolta musica perché questo sono i figli musica canto vita eterna musica musica musica